Il Movimento Civico Tutta Lecce si sta organizzando in città, facendo riferimento all'ex deputato di Alleanza Nazionale Ugo Lisi. È stata annunciata la nomina di Massimo Alfarano, ex assessore al Comune di Lecce, come coordinatore del Movimento. La decisione è stata presa all'unanimità dal direttivo del Movimento e condivisa anche da Lisi. L'ex onorevole, il cui nome era stato preso in considerazione dal centrodestra come possibile candidato sindaco insieme ad Adriana Polibortone, ha lavorato per la presentazione di una propria lista a sostegno della candidata del centrodestra. La scelta di Alfarano come coordinatore è stata accolta con entusiasmo da Lisi, che riconosce le sue capacità e lo considera un valore aggiunto per tutta Lecce. La lista, per l'appunto, si presenta alle elezioni comunali con l'obiettivo di promuovere il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini nella vita della città. Si impegna anche nella tutela dell'ambiente, nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione di politiche sociali ed economiche sostenibili. Alfarano, nel suo ruolo di coordinatore, si impegnerà a rappresentare al meglio gli interessi della città di Lecce. Con questa nuova struttura e la volontà di coinvolgere i cittadini, il Movimento Civico Tutta Lecce si propone di contribuire al progresso e al benessere della città, lavorando per una gestione responsabile e sostenibile del territorio. Con la nomina di Alfarano, insomma, come coordinatore, il Movimento si dota di una figura competente e determinata, che sarà in grado di rappresentare al meglio gli interessi della comunità leccese. Lisi conclude sottolineando l'importanza del ruolo di Alfarano come coordinatore e il suo impegno nel tutelare e valorizzare la città. Il Movimento Civico Tutta Lecce si presenta come una nuova alternativa politica, impegnata a dare voce ai cittadini e a lavorare per il progresso e la crescita di Lecce.